Bene, oggi siamo qui a far vedere, a dimostrare cosa possiamo fare con il nostro forno Tatra. Bene, quindi un forno economico adatto per tutte le cucine, per tutti i tipi di preparazione, per tutte le realtà, che ci permette di cucinare, di preparare diversi tipi di preparazione, quindi il pollo, cucinare del pesce, cucinare delle verdure, cucinare di croissant. Bene, e il tutto all'interno di questo poco spazio qui. Bene, come possiamo vedere, possiamo effettuare tutte queste cotture grazie ai vari comandi che abbiamo. Ci permettono di regolare temperatura, ci permettono di regolare la percentuale di umidità, il tempo di cottura, utilizzare la sonda al cuore. Bene, ed è un forno molto intelligente per me, perché ci permette di cucinare anche a vapore grazie all'immissione del vapore. Bene, e soprattutto è un forno intelligente perché abbiamo un sistema di lavaggio automatico, ci permette di lavare il forno in poco tempo, quindi guadagnare, salvare molto tempo all'interno della nostra cucina. Bene, quindi guardate Tatra e utilizzate Tatra nelle vostre cucine, che sarà come avere un secondo chef nella vostra cucina. Grazie mille e ricordate Tatra!